Allora, facciamo di nuovo Iron Rush? Iron Rush è proprio più lento. Ok. Quella hai a casa, hai a KKs? Full letter, è chiaro. Cioè, non è che... Good! Dammi, dammi ferro. Eh, sì. 8 ce l'hai? Sì. 9, 20, 21, 21. No. 8 ce l'hai? Mmm, 21. 2, 3, 4. Ok. Andiamo di nuovo a fare PvP. Alle fornaci? Portiamo, almeno questo qua secondo me ci segue, quindi... Che io posso fare anche la Lanville. Dì lì che deve seguirci, così uccidiamo gente full iron e gli diamo l'armatura. Ma questo è stupido, non credo capisca l'inglese. No, davvero, non ce lo vedo, non credo che popisca l'inglese, è quello che diciamo. Adesso che ci ha visto fare full iron senza la fornaci dice, oh mo, questi qua stanno citando. E non vedi continuo a farci segni di team? Questo non ha capito un cazzo di malcom come si giocava a Minecraft nella sua vita. Mi segue, continuo a seguirmi, che cazzo vuole? Ma io sta gente vuole... Cioè, manco uno che non ha mai... Cioè, ha giocato a Minecraft. Cioè, uno che non ha mai giocato... Beh, no, uno che ha giocato a Minecraft non dovrebbe essere così come lui. Bah. Non ci credo, guarda che si sta gente così, non ci credo. Sforzo. Andiamo, targettiamo gente. Sì, 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 sì. Sì, sì, team, team, dai, team, team, non ti uccidiamo, non ti uccidiamo. Come è logico che sia. Sì, sì, perché noi lo uccideremo, vero? Ah, che razza no, che ho fatto? Sai se te la prendeva? Te la dava dopo tre ore, prima che capiva che devi ridargliela. Vedi, dopo questi arbocelli inutili, prenditeli. Non mi servono. Oh, che bello! Guarda come si sta attaccato. Sì. A paura di perderti. Sì. Oh, un mob spawn era all'aperto. Che figo. Davvero? Sì. Tanti livelli. Ah. Ok. Che lo spadalo fatto. Oh mio Dio, looting 2. Bellissimo. Fai cos'è? Troppo a... Se lo faccio sul piccone mi dà più diamanti. No, però ha uccidito gli stomob spawner davanti. Lo tolgo. Eh. Eh, perché se non succede questo, è stato fatto. No, è che volevo fare esperienza. Andiamo. Let's go. Un coglione. Oh, alleluia. Ed è... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX No aspetta aspetta l'ho trovata l'entrata Ah si è entrato pure da lì Ma perché ho trovato dove è sceso Ah ma non è più qui Vieni 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 Sì sì Dove è andato? Qua vieni No me no Dovrebbe avere un po' di roba Eccolo da qua l'avevo trovato Dovrebbe avere un bel po' di roba Scendi? Sì sì Via Eccolo Qui sotto qui sotto sotto i fornaci Ah eccolo scappa C'è un altro lì sotto Ma è nudo Ah davvero Però che cazzo quanto non ci metto a morire C'è uno sotto c'è uno sotto Sotto le fornaci no? Sì è qui sotto è qui sotto di noi È chiuso Hermic scusa No no vabbè Dov'è dove? Sotto sotto di noi Proprio sotto sotto L'ho visto per un momento Si è shiftato adesso Ma si stanno ancora facendo il ferro sti qui Grazie Dobbiamo trovare dove è sceso Se lui era qui l'altro sarà qui intorno Cioè ci sarà quale entrata per andare giù Sì Se ci ne ha messo di morire 43 di ferro Vieni fai dei picconi Eh? Fai dei picconi Aspetta scendo dall'altro Aspetta dammi un piccone o ferro Oh ecco ho trovato Ferro Non è qui Ferro? Ah Tieni Stai shiftato Però non rasso aspetto te perché ho una fila di cuori e basta Mangi la testa Sì aspetta un attimo Ok Aspetta che sto scendendo pure io Forse ho trovato il buco Eccolo Eccolo qui Aspetta 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 Eccolo ho trovato il buco Ma cito adesso Va 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 Oh ho perso un po' di puro Vabbè Cerca di scappare Sì Dacci il tuoro Dio diamante E' dark soul di be Che cazzo di spazi sono fatti quelli Vieni Tanto lontano da sua parte è full ferro Uh Lascia che colpisca me no porca puttana Sì sì Guardalo che cerca di fare il giro è un furbast No Ci ha messo ti ha messo la gaia Sì Ma che uomo Guardalo lì Aspetta 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 E' che caso Ce l'ho Ce l'ho sentito Non perdere tempo con me Che tu sia maledetto DJ piccone Voglio voglio rassare Ma è a mezzo cuore quella è morto Ah Ma deve aver qualcosa di importante Sì O forse no Cazzo l'hai colpito con la caccia O forse scappa solo per paura Eh vabbè che cazzo DJ piccone c'ha quattro cuori Sì Mantello si Mangiato la testa Grazie ORO! Ok, l'ha preso. 6 di oro. Ho buttato acqua. A tutta forza ho buttato acqua. Vai bravo, andiamo. Dobbiamo farci sharpness. Cioè io devo farlo. Vedo uno? Si, si, si. Si, si, si. Io ho l'arco, l'arco. Io no. The Dutch boy e i dei, abbiamo perso. Va bene. Hanno 38 e the Dutch boy quanto? Per capirci. 39, si, abbiamo perso. No, li portiamo da altri, andiamo a destra. Perché sono forti. Cioè più che altro è forte the Dutch boy. L'altro, non lo so. Ah, mi frecciano pure. Non li ho neanche beccati una volta. Adesso si. Peccato. Non credo abbiamo da rigenerare. Vedo, vedo, si. Peccato. Peccato. Peccato, si, si. Vai, vai. Ah, 12 pori i dei. Si? Andiamo, andiamo. Si, si, si. Aspetta, sono lì shiftati. Io non vengo. No, no, non sono shiftati. Ah. Si, ora si sono shiftati. Allora presto. Vabbè. Uno lo vedo. Dov'è? È qua, è qua, è qua. Guardalo. Dietro questo alberetto. Non, non lasciare. Uso tutte le frecce. Mi curo. Si, si. Eh, si, si. Dietro quell'albero. Guarda, devi guardarmi l'altro dov'è. Non lo so. Io andrei da questo perché non c'ho vita più. Dai, dai. Sì. È qui, è qui. Occhio, occhio. No, mi è assotto da solo. Eh, si, c'è questo. Questo qua quanta vita ha? Non lo so. L'ho ucciso l'altro. Bravo. Mangia la testa. Arriva, arriva da te. Arriva da me? Che vuole da me? Cattivo proprio. Uh, che bello. Me la mangia la testa, si. Si, ovvio. Se mi dici dove sei vengo da aiutarti. Eh, vieni. Usa la bussola. Ok. E' The Dutch Boy, no? Che sta raspando. Cazzo siete lontani. Ok, è importante che ho mangiato la testa. Per il resto... Ok. Ah, 80 blocchi. Ah, state venendo da me. 45 cuori. Sì, 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 sì. Ti aiuto. Pah! 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 Pah, The Dutch Boy! Pah! Vediamo quanti cuori ha. Il totto, ok. Sì. Vai via, vai via, vai via, vai via. Ci penso io con la spada. Sì, sì. Stavo per morire di nuovo in modo stupido. Ok. Ai Dark Soggy ce l'avevano loro, quella spada di merda. Posso fare Sharp 3 in ferro. E per fortuna che vi hai detto che stavano per morire. Chi? Hai detto che morivamo adesso. L'altro stava per morire. No, hai detto che adesso morivamo perché questi qua erano forti. Sì. Ah, eh. E non è che ci siamo andati vicini. Eh, sì. Vabbè, la testa l'hai mangiata, no? Sì. O sei di oro. Eh, niente. Aspetta, continuo. Finisco di prendermi drop di quello che... Ah, non avevano le archi inciantati? No. Bah. Li lavo i blocchi? Sì. Eh, lì allora che sono frecciati. Mi sa. Sì, c'è un coglione e ti dico subito chi è. Sì. Guardando le skin, destroyer. E' quel lungo? Ah. No. Invece noi. E' XX. Beccato. Superboy. Sì, cambia. Guardiamoci intorno che nessuno c'è. Aspetta, vieni, 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 che questo scappa. Vieni, l'ho beccato già due volte. Anche io. Anche tu, c'ha dieci cuori. Questa è una testa easy, eh. Sì, non lasciamo. No, no. Si butta in acqua dopo freccia. Vai. No, l'hai aiutato. Eh, lo so, ma l'ha facciato lo stesso. Vabbè, allontaniamoci con lui. Sì. Vai, non ci fermiamo più. Tanto la sharp 3. Tanto la sharp 3. E poi guarda, si incastra. Ora gira, vai, ninfè, vai. Sì, sì. Vogliate qua morire. Ecco, qua si è buttata in acqua, lo vedo. Cazzo. Eh. E' tenace. Se un altro sa scappare. Guarda, il problema è che non posso neanche saltare sotto un blocco perché mi incastro. Sai quello dell'albero? Sì. Infatti io sto attento. E io non lo faccio più in questo server perché c'è il lag block. Non si può fare. Se sei americano lo puoi fare. Eh. Io sto a destra, eh. No. Ah, si tanto ormai è da andargli addosso perché è finito. Sì, sennò sprechiamo le frecce però non così. Ecco, l'ho incrociato quasi. No, gira a sinistra. Ecco, qui in acqua dai, si si butta. Intorno a noi non c'è nessuno e comunque sto controllando. Ma che cacchio? Vai, lo freccio. Frecciato. Sì. E' morto. Ha due cuori. Ah. Perché non muore? E basta. I nabbi credono di salvarsi in questo modo. Comunque sì, ci può salvare però. Sì, succede. Uh. Che pelo. Che pelo, aspetta. Ah. Ce l'ho, ce l'ho. Ce l'hai? Ce l'hai? Ce l'hai? Oh. Oh. Spero che abbia un bel po' di frecce o flint o feathers. Sì, aveva un po' di frecce, ho visto. Controlla quante ne ha? Io ne ho nove. Tu quante ne hai? Vieni. Vieni, posso dartene una ventina. Va bene. Guardami un attimo in alto. Sì, sto guardando. Dobbiamo ritornare là comunque. E' Sharp 2, prendila. E tu non ce l'hai? Sì, ce l'ho Sharp 3 io. Ah, ma che cacchio. Allora, che posso farmi Sharp 3? Aspetta. Quanti ve li hai? Dammi flint. 3. Quasi 4. Eh, allora. Ci servono 11. Oh, oh. Coglioni. Coglioni. Sì. Allora. Masco. Jonathan, Jonathan. Jonathan, sì. Sono quelli che ha fatto tante... Spade di diamante. Eh, ma aspetta. Eh, calma che c'hanno un sacco di cuori però. Sì, sì. Hanno spade... Oh mio Dio, c'ha strength, c'ha strength, c'ha strength. Fuori, fuori. Via, via, vai via, vai via. In acqua, in acqua, in acqua, in acqua, in acqua. Ok, in acqua. In acqua, come i veri elfi. Ok, però qui ci incastriamo, eh. No, no. Occhio. Ecco qua. E ora... Ok, vai, un colpo me l'ha tirato. Adesso è morto. Mio Dio, ma ha tolto una fila... Di cuore. Ho rektato. Anche questo lo sto. Ucciso? Oh, mangia una testa. No. Mi ha ucciso. Cosa? Mi ha ucciso. Ah, le istante alt. Vuoi cantare la canzone della buonanotte, Ermac? Hanno le istante alt. No, vuoi cantare la canzone della buonanotte. Mamma mia. Hanno le istante alt. Ti dico solo che l'ho colpito quattro volte e sta a 29 di vita. Sì, ma... Io non capisco perché mi ha colpito e mi ha tolto un casino di cuore. Perché c'ha strength. Che probabilmente è strength 2. Cioè, non so modo quello è il problema. Sei un morto che corre. Lo so. Guardalo, guardalo! Come ti insegue male. Eh, mi incastro ora perché sono agitato. Ma no, ma... Sì, ma tanto sei morto lo stesso. Guardalo lì. Sì, sì. Hanno le istante alt. Quindi ci puoi far po'. L'ho frecciato. L'ira di Dio di volte. Che pensavo che fosse morto. Mi sono andato addosso. Gli ho tirato quattro spadate. Sharpness 3. Eh, nulla di fatto. Mi dici quanti po'. E' a 35. Stanno recuperando ancora. Mamma mia. Mamma mia. Mamma mia. Questi meloni viscerati li dobbiamo fare. Ma comunque i meloni non si trovano. Mascot Rich si chiamava l'altro, sì? Eh? Sì, sì. Mascot. Mascot e Jonathan. Ti ho dato che due coglioni. Sì, proprio. Due coglioni con le strength. Due coglioni con le strength e le speed, soprattutto. No, vabbè, ma tanto non ribecchi perché ce lo distruggono nell'istante health. Perché uno di loro deve avere il crafting delle... Dei meloni. Eh. Questi con un arco power 2 sai come andavano giù? Eh. Guarda che l'ho sottato un casino all'altro. Chi? Mascot? Eh, ma c'ho 30 HP. Eh, come se non avessi fatto nulla. Ho sprecato tutte le frecce. Aspetta, 30 HP? Sicuramente non hanno mangiato niente. Beh, perché Jonathan ha quasi il full HP. Mhm. Quindi se ne è fottuto altamente. Eh. Ammira l'opera di cobblestone che ho fatto a destra prima di morire. Ora, vediamo. No, non ti seguono più comunque. Se ne sono... Lo so. Se ne sono qualcuno da uccidere, vediamo. Non se ne sono proprio curati. Tu dimmi solo se vedi qualcuno. Un villaggio. Sì, un villaggio. Sarà il peggio tempestato. Un villaggio. Vediamo. Non c'è andato nessuno. Tu mi dici se c'è qualcuno e quanti cuori ha, se ha pochi cuori. Sì. E tra il cosa, nel fabbro che non c'è andato nessuno. Ah. Questo villaggio. Perché come caspia è possibile? No, ma come ci sono andati? Ma... Tutto tro... Ce lo so, è tutto troppo tranquillo. Eh, cinque... Ho... Ho sapling, sì. Sapling che cos'era? Aspetta. Sapling cos'è? Sono quelli degli alberi che cadono, che li ripianti, sì. Cioè... Ah, al barbo scegli. Sì. Ehm... C'è qualcuno qui? Guarda. Devi cercarmi un diamant, che ha cinque cuori. Oh, psilus. No, un diamant è morto. Ah. Non si può trovare. Lo che ha meno cuore adesso è... Matan King o VJ Russe. Russ. VJ Russ. O... Basta. Perché gli altri... O full. Cioè, ora potrei anche andare in cavenna a farmi l'oro, però mi sa fiacca. Eh... L'ho fatto una volta. No, ma si è morto che cammi. Eh? L'ho fatto una volta. Avevo tipo quattro cuori. Sono andato in cavenna, sono ritornato ad avere 40 cuori prima del damage. Però mi hanno ucciso. Perché non avevo in shunt. In due secondi. Cioè, sono rimasto l'ultimo a morire, però. Sì, ma... L'arco con power è indispensabile. C'è poco da fare. Sì. Il cazzo di arco con power è indispensabile. Senza quello... Basta. Finito. Oh, là, là. Inchantati. Dove c'erano i letti? Vedo chi sono. Eh, ma tanto sono in due. Dovrebbero essere... Mathieu Corman... E Ian. Dovrebbero, eh. Sono... Tre che stanno... Due stanno combattendo. Due con team... Una cosa due contro due, sì. Ah, eh. Sono arrivati i Mascot e Jonathan. Ok. Ah, non ci sono tutti? No, Mascot è morto! Ok. Jonathan ha 25 cuori. Non ce la faccio, vero? Ti sta guardando. Eh, ma c'è la riflessione dei Chunk anche. No, ti sta guardando perché c'è ma... Eh, no, è Mascot dallo Spectating che si sta guardando. Perché ti ha visto che sei shiftato, oh, Jonathan. Allora, aspetta. Yolo. Eh, arco, arco. Non ce l'ho. Vedi, vedi, vedi la pozione che c'è in mano? Quella è un istante alt. Infatti, è a 40 cuori! Ho mangiato una testa. Mi ha 40 cuori! Sì. Aspetta. Ho preso qualcosa. Ho preso qualcosa dal loot. Sì. Non so cosa. Ho preso una testa e l'ho mangiata. Bravo. Mi ho scritto istante alt. Va, ci parla un attimo così vedo. Sì. Devo trovare qualcuno che mi aiuti. Yes. C'ho, c'ho un enderpearl. Eh, no, aspetta. È andato via l'altro? Eh sì, però c'è l'altro davanti adesso. Io ti guardo da dietro. Non è niente di spada, eh. No. Doppio nella tua vita. Comunque lì vicino a Jonathan. Allora vado a prenderlo, Jonathan. No, no, no. Si è allontanato. Si è allontanato. Li ha trasportato via gli spectator. Sì? Sì, sì. Uccidilo con l'arco, questo. Eh, non ho le frecce. Ah. Ho un enderpearl. Eh. Hai guardato nell'inventario per vedere... Cosa? Ho guardato. Non ho niente di interessante. Niente, lo porto da Jonathan. Ok. E il mascot J è qua. Aspetta che forse ho trovato anche Jonathan. Perché ho visto trasportarsi... Che questo qua cerca... Tizio. Eh. Sì, eccolo Jonathan. Eccolo. Guarda, guarda tutto Fiero che è lì che tira la spada. Ok. Ok. Dai, Jonathan. Girati. Urla lì, urla lì. Così si gira. È caduto pure in acqua. C'è quello che ti vorrebbe tagliare da sinistra, quindi non girare a destra. Ma uso l'enderpearl. Eh, non girare a sinistra. Qua... Qua mi colpisce, visto? Guardalo, non si gira. Tirali un colpo. Ah. Guardalo. Tirali un colpo, un colpo. Fatti vedere. Ah, ti ha visto lo spectator, quindi è un fanculo. Oh, c'ho 11 di cu... 11... 11 d'oro. Chi? Io. Ma non ho una mela. L'altro si è girato, visto? E l'altro sta scappando. Vendi le shears, fatti... Sì, sì. Mela. Sta ritornando. Aspetta che controllo cosa ho bene. Ho un enchanting table. Attenzione, eccolo, eccolo. Sono mai aspettato troppo, ora non riesco a passare il fiume. Chi, tu? Sì, no, riesci, riesci. Ma però, ci sono degli spectator lì, significa che c'è qualcuno qua vicino. Sì, ce ne sono due sottoterra! Ah, ecco. Ma non è Jonathan? Ce n'è uno sottoterra. Eh... No! Devo cogliere proprio qua sotto terra, eccolo! Che mangia! Sì? L'ha visto. Dovrebbe vedere i nomi. Forse l'ha visto, sì? Sì. Vai, vai. Sì, sì, eccolo, eccolo. Chiama... Ah, è Jonathan! Cazzo... Sì, è Jonathan. Te l'ho dato con Jonathan. Da dove è uscita quella lava? Gli ha piazzato la lava da sotto? No, l'ho piazzata io la lava. E ho bruciato quello. Dimmi quanti cuori ha. Ah, vabbè, adesso lo uccide. Sì, forse sì. Devo trovare una mela. Due si arrivano, eh. Ha sempre costantemente forza, Jonathan. No, ma fallo con le Shears, no? Che ci avrei un fottio di ferro. Eh, vabbè, ma non ho... No, fallo, fallo. Non la trovi, sennò. È morto? Sì, è morto. Senti me, fallo con le Shears. Eh, ma non posso perdere il tempo nelle Shears. Vado via da qui. Ma, le faccio pure un cazzo a fare. Basta che metti due cosi di ferro. Perdi più tempo a farle così. Guardando dove è Jonathan. Vai. Vai, vai. Spacca tutto, spacca tutto. Non c'è nessuno, veloce. No, no, quegli alberi. Non così, non così, no. Ah, e come? Prendi le cesoie e spacca le foglie degli alberi. E ti scendono automatico le mela. Ma sei sicuro? Sì, vai, vai. No, non è spaccar così. Non è spaccar così che non... A parte che ti è scesa già la mela. Ah. No, vabbè, dopo me lo fai vedere meglio. Dai, adesso non riesco. Devi solo rompere le foglie dagli alberi con le Shears. E le mela scendono da soli se stanno nelle foglie. Ah. Mangia. Qua sono incastrato. Ok, dai. Vediamo se c'è Jonathan. Jonathan ha 3 da 3 di vita. Non sembra che ha intenzionato a morire. E... Allo stesso tempo non vedo più il suo spectator. Quindi puoi andartene via. Sì. Si è stancato di stare... No, ma ti ha visto, mascot. Non c'è modo che tu possa nasconderti. Perché c'è lo spectator. Ti sta guardando. Come io sto guardando te. Infatti adesso, magicamente, verrà verso di te. Ma... Non stanno parlando tra di loro. Forse non sono neanche amici, quindi non può saperlo. Capito? Oh, c'è uno qui dietro. Guarda chi è quello lì quanti cuori ha quello dietro. Ah. È Ariel. Ha 40 di vita. Ariel Sofi. Aspetta, forse non mi ha visto. Però aspetta, caso mai... L'altro mi ha visto, forse. Eh, aspetta che l'ho perso di vista. È qui, è qui nel fiume. Mi ha visto? Mmm... No, 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 no. Resta là, resta là che non ti ha visto. C'è un altro. È questo. È un team. Un team con lui. Ok. Oh mio Dio. Melafon. E sta andato da Jonathan. Bene, allora controllami in tempo reale Jonathan. Sì. Non devo dargli il tempo di mangiare. Vai, vai, però devi camminare perché altrimenti non lo vedo più. Vai, 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 vai. Devi andare a farlo, eh, se vuoi. Oh mio Dio. Sì, 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 stanno combattendo. A 36 HP. Eh, lo so perché è sotto di loro, che idioti. Ah, no, stanno... È lassù. Sì, sì, Jonathan è quasi morto. 30 HP. Ha un sacco di protezione sull'armatura comunque perché si è preso tanti di quei colpi che sarebbe già dovuto morire. Ok, Jonathan in azione. Jonathan in azione ha 20 cuori. 15. 10. Eh... No, 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 no. Melan Orphan e Ariel Sophie stanno per vincere la battaglia a quanto sembra perché Jonathan non si è mai intenzionato a vincerla. O forse sì. Quanti cuori hanno loro? Eh, loro ne hanno pochi anche. Aspetta però non... No! L'ho ucciso! Ok, scappa. Scappa, scappa perché... Melan Orphan ha 5 cuori e Ariel sono morti, sono morti! Vagli addosso, vagli addosso! Sì, sì. Vagli addosso che c'hanno 5 cuori e mezzo cuore. No. Uno e l'altro a mezzo cuore. Oh mio Dio! Controllami! Controllo tutto. Non ci credo. Mangia tutto quello che puoi, prenditi tutte le pozioni, tutte le protection perché avevo un sacco di roba, ci sono pozioni a destra, attento a non far sparire i drop. Fai con calma, io ti controllo. Sì. Vibro come una pecora. Vibro come una pecora. La Sharpest 3 di diamante! Sharpest 3 di diamante è forza! Hai altre teste? Eh? No, sì, un'altra. Mangia. Controllami. Posso fare le mele. Fai le mele. Dai che non hai tempo, fai le mele. Mangia la testa e fai le mele, dai dai dai, veloce veloce. Eh? Non ho la crafting, qui, qui. Eccola. Mele d'oro quante le puoi fare? Una. Mangiala. Mangiala deadwatch. No, non riesco, aspetta. Eh, strength 2, strength 2, speed 2 e un enderpearl. E... Sono tutto protection e... Ah no, posso cucinare, però non ce la faccio. Oro? 8 oro, sì. No, non ce la faccio. Oh... Sì, ho una speed... Butta tutte le schifezze. Sì. Shifta. Sì. Allora. Allora. Giocatela come vuoi. Io ti dico alla gente che... No, sì, devi dirmi in tempo reale. Oh mio dio, quella l'ha già visto. Oh mio dio, quella l'ha già visto. Oh mio dio, quella l'ha già visto. Sì. Sì, sono due full iron del cavolo. Se butti le enderpearl al centro... Non lo so, perché gli altri non sono enchantati. Sono tutti full iron di merda. E nessuno vuole andare al centro. Butta le enderpearl, sì. Dimmi, dimmi. Attenzione che arriva anche altra gente. E vattene via, eh. Gheppo le frecce. Gheppo le frecce. Vai via. Vai, preso. Mangiane una. Ok, l'altra tiene te la per riserva. Scambia slot perché così non te la mangia via. E attenzione perché devi andare ad uccidere qualcuno. Gira a destra. Destra, destra. Sì, sì. Vai dritto, vai dritto. Vai. Ecco lì c'è gente. Ci sono Electron. Imbir e Mathieu. Non c'è andare contro così però. Allora. Mathieu e Corman ha quasi tutti i cuori. Imbir ha 30 cuori. L'altro ce ne ha... L'hai ucciso praticamente, Electron. Ah, questo non l'avevo visto. Istorm. E io ti copro. Ok. L'hai presa la testa? L'hai mangiata? Sì, sì. Ho strength. Devo usarla. Non posso sprecare. Ok, vai da quelli, da quelli. Da Electron. Quella altra. Dove sono? Gira a sinistra. 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 Exploding Orphan. Sì, 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 sì. Attenzione. Ti gira a destra, gira a destra, gira a destra. Sì, sì, lo so. C'è uno dietro. Mister Swaggy. Ti ha tutti i cuori. Hai strength? Sì. Buttaticci addosso. Sì, sì, sì. È morto, è morto, è morto. Bene. Fotti tutto, fotti la testa quando l'hai presa. Ti guardo dietro e... Sì, l'hai presa. Dove sono gli altri? Attenzione, c'è uno qua a sinistra che sta laggando però. Sì, hai il team da tre. Hai il team da tre. No, no, no. Non posso. Allora, Electro è morto. Matteo Gorman ha anche... Ha in birra 29 cuori. Aspetta, ci sono Mister Ghost e un altro che si stanno combattendo. Si chiamano Aegon's Cry e Sanson. Sanson è morto. Vai, vai, clean up. Sì, quelli là, quelli là. Clean up ali. Uno. E l'altro anche. Clean up l'altro, clean up l'altro. Ok. Coprimi. Pozioni. Coprimi. Ti copro. Prendi la testa e mangiala. Ok. Vedo chi è rimasto, eh. Ha scritto I'm going to report you, ma va bene. Va bene. Tanto sto registrando. Sì. Coprimi. Ok. Ok. Eh... Chi è rimasto? Sono rimasti, Mathieu, ha in birra quello più qualcun altro. Che ti dico subito. Cerca di prendere pozioni, hai lasciato dell'oro. Eh. Non voglio lasciare niente a questi qua. Non voglio lasciare un cazzo. Bravo. Bevo Speed. Bevi Speed. E vado alla ricerca di qualcuno. Sì. Io ti controllo perché c'è il team da tre, questo è vero. Però ci sono altri due team. Eh. E dove sono? Ah no, forse vedo qualcuno. Uno, due... Eccolo. Full Iron. Forse un altro e basta ce n'è. Questo qua deve essere quello quasi morto. Sì. Oh cazzo, era invisibile. Girati dietro. Gira dietro. Hai il bordo? Hai il bordo? Vai via perché sennò ti chiudono. Dai sono rimasti solo quelli idioti. Vai via, vai via. Mangiati la testa. Non ce la faccio. No, ma tanto sono full vita. Eh, vabbè. C'hai Gepple o qualcosa? Strength. Cosa c'hai? Ho una Gepple, una Strength, due Speed, due. Ok. Bevi la Strength, la Speed e buttati sopra quelli. Con parsimonia però eh. Cerca di shottarli o qualcosa. Di metterli fuoco comunque. Sì. Allora ti dico che quello morto è Electron. Quindi... Non tira... Ok, è sola, è sola, è sola quella. È da sola. Mettili il fuoco eh, mi raccomando. Attenzione perché Electron vuole fare il Principe Azzurro. E non lo vuole mandare da... Non seguire... Sì, segui Electron. No cazzo! Mi hanno buttato nella lava. Acqua. Uh, grandissimo. Comunque non ti hanno fatto tanto danno. Oddio, ne è uscito un altro, da nulla. Sì. Questo qua non basta, è morto. Electron è morto. Cronix, c'ha 40 cuori. Fai attenzione perché è pericoloso. Mangiati la testa. Dov'è, dov'è? Mangiati la testa, tranquillo. C'è solo uno scheletro che ti viene addosso, non è nessuno. Ok, Matteo e Corman. È morto. Attenzione, c'hai Ambir a fianco. Ok, siete rimasti due Cronix. Fai attenzione, ti prego. È lì, è lì, ce l'hai di fronte, ce l'hai di fronte. Sì, sì, sì. Ok, ok, grazie. È l'ultimo? Sì, è l'ultimo. Che cacchio sta facendo? Vi sta aggostando. Vi ha cacciati. Oh mio Dio. Oh mio Dio. Che partita è stata? Oh mio Dio, 14 kill. Tu quanto hai fatto di kill? 4, ma ti ha cacciato. Come hai cacciato? Non hai vinto. Sì, ho vinto, ho vinto. Ah, hai vinto, a posto, a posto. Ho vinto, ho vinto. Pensavo di essere cacciato. Ho detto no. No, no, mi dice solo Winding Team, grande scavatore e basta. Tu non ci sei, non capisco perché. Ah, vabbè, no, no. Ci sono, sì, ci sono. È che sono morto, quindi non mi riporta. Ma che partita è successo? Che cazzo è successo incredibile? Io Dio. Cioè, io ero morto. Quello da Jonathan era invincibile. Tu sei morto. Io ero rimasto con quattro cuore che scappavo da un team di due persone pozionati. Sì. Chapeau. Che cazzo è successo? Oh mio Dio. Quattordici kill. Il mio nuovo record. Mamma mia. Non ci credo, quattordici kill. Questa non la carichiamo. È ovvio che anche grazie a te che mi hai dato informazioni. Ti ho già detto che se uno muore e l'altro dà informazioni giuste all'altro, distrugge tutto. Sì. Cioè, mamma mia che figata. Non ci posso credere. Mamma mia. Non ci posso credere. Non ci posso credere. Ho vinto lo stesso. La partita di ieri è iniziato io a mezzo cuore. E questa di oggi? Sì. Mamma mia. Che era persa? Sì. Cioè, questa è proprio la prova che si può vincere qualsiasi partita comunque. Mamma mia, sì, seriamente. Basta crederci, a quanto pare. Ci ho voluto credere un pochino all'inizio. Alla fine, grazie a quel team la di Full Iron mi ha aiutato un casino. Mamma mia. È vero comunque, quei due ti hanno aiutato proprio del tutto. Mamma. Cioè, mamma mia. Perché con il Jonathan aveva le pozioni e ha ridotto in fin di vita quei due. Quei due alla fine l'hanno ucciso. Wow. Bellissimo. E wow. Mamma mia. Quando mi sono salvato grazie con l'Enderpool che avevo lì nell'inventario. E poi, beh, per questo devi sempre avere il cazzo di secchio di lava e il secchio d'acqua nell'inventario. Sì, secchio d'acqua perché è utile. Perché ti... Se non avessi avuto quella, saresti grepato. Avevo due teste e una pozione di strength, però... Eh beh, nella lava eh, se non saresti uscito. Quell'acqua però mi ha salvato anche, che mi ha fatto subito spegnere. Sì. Per fortuna la gente spamma l'acqua e la lava in giro sul Deadmatch. Mamma mia. Che cazzo. Figata, mi hanno anche coso segnalato. Tanto. Ti hanno anche segnalato, è vero. Sì.